Associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione, detenzione di armi ed esplosivi. Sono le accuse contestate a vario titolo alle nove persone arrestate dai carabinieri del comando provinciale di Salerno in un blitz scattato all'alba. Disarticolata quella che per la direzione distrettuale antimafia è l'organizzazione camorristica denominata Zimast, quelli di San Lorenzo, operante nell'area di Sant'Egidio, del Monte Albino e dell'Agro Nocerino Sarnese. Un sodalizio criminale riconducibile, secondo gli inquirenti, alla famiglia Iannaco Sorrentino, che nella guerra di Camorra, che ha insanguinato la Campania, si era schierata con la nuova famiglia. Le indagini sono partite nel 2018 dopo una serie di attentati alle attività commerciali del territorio, bombe ed ordini artigianali che hanno distrutto vetrine e saracinesche. Una capillare attività estorsiva, come sottolineato dal procuratore capo Giuseppe Borrelli, a suon di intimidazioni ma anche rapine, furti e ricettazione. C'è però anche un dato che è stato sottolineato dalla guida dei PM salernitani, vale a dire il quadro di diffusa omertà sul territorio. Gli imprenditori vittime dell'estorsione, infatti, quasi mai hanno denunciato a testimonianza della presenza pervicace dell'associazione camorristica da lungo tempo. Borrelli ha anche sottolineato l'importanza dell'operazione di contrasto ai clan dell'Agro Nocerino Sarnese, ribadendo come questa parte della provincia di Salerno sia preda di clan territoriali particolarmente radicati e non solo, come si riteneva fino a qualche tempo fa, di ingerenze di organizzazioni criminali del napoletano.